A lezioni di fotografia con Gabriele Cruppi qui a Rosmini. Sì, sono molto contento perché dopo quasi vent'anni torno in questo luogo per noi, diciamo, mitico, così legato al territorio, con un corso di fotografia. Un corso di fotografia che sarà un corso in otto lezioni, partirà dal 22 di aprile di quest'anno appunto. Sarà strutturato in otto incontri, sia teorici sia pratici, sul campo. E in un momento in cui i padri rosminiani, la bellissima biblioteca stoica, sta cercando anche di valorizzare il patrimonio fotografico che mi dicono essere importante, che mi dicono avere dei contenuti, diciamo, molto interessanti riguardo anche al nostro territorio. Grazie. Grazie. Grazie.